canto terzo del purgatorio abbiamo lasciato dante virgilio che fuggivano perché intimoriti dalla sgridata che catone aveva fatto le anime indisturbate che stavano ascoltando il musico casella finalmente dante virgilio si acquietano e vedono la montagna del purgatorio dietro a dante c'è il sole lui sente questo calore si guarda di fronte e a terra vede l'ombra quindi volge lo sguardo verso virgilio aspettandosi di vedere la sua ombra ma purtroppo non c'è quindi si spaventa inizia a pensare di essere solo infatti all'inizio del canto terzo dante ci ha confessato che senza virgilio non avrebbe neanche iniziato questo viaggio non saprebbe proprio dove andare quindi si sente completamente abbandonato virgilio si accorge di questo di questo spavento e dice non ti devi stupire del fatto che io non abbia un che io non abbia un ombra perché sono un'anima inconsistente e non pensare che io ti abbandoni in questo viaggio quindi dante è rassicurato non si fa più domande inoltre virgilio dice che già grandi uomini e si riferisce ad aristotele e platone si sono già poste delle domande sull'anima e quindi non e hanno avuto delle conseguenze anche più o meno gravi dopodiché virgilio dante continuano il loro cammino questa parete viene descritta da dante come altissima la più alta mai vista virgilio inizia a ragionare ad alta voce a chiedere ma chissà dove dove è il varco che dobbiamo prendere per poter salire questa montagna se a destra o a sinistra e così camminano velocemente ma a un certo punto dante volge lo sguardo verso la parete di sinistra e vede delle anime giungere lentissime così dante e virgilio dicono bene andiamo a chiedere loro dov'è il varco per salire questa montagna del purgatorio quindi dante e virgilio si affrettano ma dante dice che hanno già fatto mille passi ma queste anime erano ancora lontane questo per dirci quanto si muovessero violente a un certo punto dice che un gruppo di anime si sono spaccate per andare verso dante virgilio un po come fanno le prime pecorelle di un greggio e poi tutto il greggio dietro le segue così stavano facendo quelle anime e quando si erano avvicinate dante e virgilio si accorgono dell'ombra di dante che era vivo quindi spaventate le prime tornano indietro e le altre come un greggio e le seguono virgilio allora subito interviene per tranquillizzarle spiegando del viaggio che stanno facendo di non preoccuparsi del fatto che dante fosse vivo e a quel punto una di queste anime si stacca e si avvicina da si avvicina dante e chiede se l'abbia mai incontrato in vita se si ricorda chi è mostrandogli le ferite dante allora capisce che è manfredi il figlio di fiderico secondo l'imperatore che abbiamo incontrato nell'inferno tra gli eretici perché era ghibellino e a questo punto ci chiediamo perché manfredi che è gli stesso ghibellino quindi avversario della casata di dante ora si trovi in purgatorio con le anime che poi una volta che avranno scontato la loro pena giungeranno in paradiso come mai perché manfredi è stato uno dei peccatori che poi si è pentito durante la battaglia di benevento dove poi avrà la sua morte quindi pentendosi prima di morire ha avuto questo posto privilegiato nell'antipurgatorio perché ricordiamoci che non abbiamo ancora attraversato la porta del purgatorio e dovrà rimanerci in questo antipurgatorio per 30 anni per ogni anno di scomunica che ha avuto dal papa clemente iv e l'unico modo per poter accorciare questa pena prima di entrare nel purgatorio e iniziare appunto questo atto di purgazione di purificazione per arrivare in paradiso potrebbero essere le preghiere dei parenti e quindi vivi e quindi chiede a dante quando torni sulla terra puoi chiedere a mia figlia costanza di pregare per me così che magari si accorciano gli anni di permanenza nell'antipurgatorio il vescovo di cosenza racconta manfredi a dante aveva fatto prendere il suo cadavere dopo la battaglia di benevento l'aveva fatto portare fuori dallo stato pontificio al buio senza gloria e seppellito senza nessuna preghiera così come era usanza fare con chi era considerato eretico e quindi manfredi essendo ghibiellino ha avuto questa fine e dunque dante preso da questo discorso e abbandona la sua anima completamente alla al discorso di manfredi e così si conclude il terzo canto del purgatorio